Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è PrimaTG delle ore 21, andiamo con le ultime notizie perché arriva puntuale infatti il bollettino Covid-19 in tutta Italia con 8.824, nuovi casi nelle ultime 24 ore più 0,4% rispetto al giorno precedente, infatti ieri si erano registrati 12.545 casi di cui oggi 2.482 casi identificati attraverso i test rapidi inseriti nel bollettino. I decessi odierni sono 377, lo 0,5% in più per un totale di 82.554 vittime da inizio pandemia. Le persone guarite sono in totale 1.760.489, complessivamente 14.763. quelle uscite oggi dall'incubo Covid-19 più 0,8% rispetto alla giornata di ieri, gli attualmente positivi risultano invece essere 547.058 con meno 6.316 unità rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività di oggi è del 5,6%, l'approssimazione del 5,556 vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi. Ieri invece si attestava al 5,9%. Scendono i contagi Covid-19 odierni anche in Campania, secondo il consueto bollettino dell'unità di crisi alla protezione civile regionale, sono 714 positivi del giorno, di cui 26 casi identificati, test antigenici rapidi, di cui sintomatici sono 75, asintomatici invece 613. I tamponi del giorno effettuati sono stati 7.758, di cui 232 antigenici, per un totale positivo di 207.863, di cui 156 antigenici, e un totale tamponi di 2.245.559 unità. I deceduti sono 25, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 19 in precedenza, ma registrati solo nella giornata di ieri, per un totale deceduti di 3.395. I guariti sono 1.138, per un totale guariti di oltre 131.000 unità. Il report posti letto su base regionale indica come posti letto di terapia intensiva disponibili 656, quelli occupati sono 94. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conti, ha parlato nell'Aula della Camera per la comunicazione sulla situazione politica determinata alle dimissioni dei ministri d'Italia Viva. Andiamo ad ascoltare un estratto delle sue parole. Grazie, signor Presidente. Ringrazio tutti i deputati, le deputate che sono intervenuti, che hanno fatto interventi anche molto articolati per alimentare il dibattito e ovviamente commentare le comunicazioni che ho riassunto questa mattina. Ho visto anche che da qualche intervento c'è stata qualche notazione, è immersa qualche notazione critica per quanto riguarda l'appello che io ho rivolto. Io devo dire che è un appello molto chiaro, è un appello molto nitido. C'è un progetto politico ben preciso, è un progetto politico ben articolato, è un progetto che mira a rendere il nostro Paese più moderno, è un progetto che mira a completare anche tante riforme, tanti interventi che abbiamo già messo in cantiere. Abbiamo bisogno di offrire ai nostri cittadini di realizzare la transizione verde, abbiamo bisogno di perseguire la transizione digitale, perché abbiamo bisogno di affrontare oggi più che mai tutte quelle diseguaglianze vecchie e anche quelle nuove, perché questa pandemia, lo stiamo sperimentando tutti insieme, sta creando nuove diseguaglianze, sta ridisegnando le vecchie e sta trasformando anche i rapporti tradizionali, sociali e sta creando nuove diseguaglianze. Quindi oggi abbiamo una società che rischia di uscire da questa pandemia con forti diseguaglianze di genere, ancora più accentuate, generazionali, ancora più accentuate, territoriali e così via. Ecco che la nostra capacità, la forza di questo progetto, la prospettiva di questo progetto è lavorare in questa direzione. E non bisogna avere timori e nessuna timidezza quando si ragiona con sguardo chiaro, con prospettiva certa. Intanto, a seguito delle parole del Premier Giuseppe Conte, il deputato di Forza Italia Roberto Chiuto ha confermato che nessun deputato del partito voterà la fiducia al Presidente del Consiglio, il tutto aggiungendo però che Forza Italia potrebbe votare i provvedimenti necessari e ritenuti giusti, come ad esempio per lo scostamento di bilancio. L'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha comunicato che la Pfizer ha ridotto di circa 165 mila dosi il nuovo invio dei vaccini. Questa decisione, assunta a detta di Arcuri in modo totalmente unilaterale, crea più di qualche problema nella simmetria tra le regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Ossa. Sono infatti le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech. I primi disagi già ci sono in Sardegna. La Pfizer infatti ha dimezzato le dosi di vaccino contro il coronavirus destinati a questa regione. la regione ha dovuto sospendere la campagna vaccinale finora limitata agli operatori sanitari, residenti e personale dell'RSA. Sono poco più di 7 mila le dosi che dovrebbero arrivare oggi invece che oltre 14 mila. Abbiamo dovuto sospendere la nostra campagna così come è stata programmata. Somministreremo solo le seconde su dosi, ha spiegato all'ACI l'assessore regionale della sanità Mario Nieddu. Procida è la capitale italiana della cultura. Per l'anno 2022 è stata proclamata la maggioria presieduta dal professore Stefano Baia Curioni dopo l'esame dei 10 progetti presentati dalla città che si sono candidate. La disegnazione si è svolta alla presenza del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Si erano proposte Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve, Di Soglio, Taranto, Trapani, Verbania Lago, Maggiore e Volterra. Oltre 50 mila false certificazioni mediche emesse in un solo anno per far conseguire la patente a chi non ne aveva i requisiti come persone anziane, ultranovantenni e persino progetti allettati perché affetti da gravi patologie. E' questo quanto emerso dall'indagine della Procura di Napoli Nord che ha portato all'esecuzione da parte della Polizia Tradale di Napoli, di staccamento di nola di 24, misure cautelari, 20 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a carico di un medico, dei suoi familiari, titolari e collaboratori di autoscuole, di agenzie, di pratiche auto. I destinatari delle misure, così come gli altri 16 indagati, 40 in tutto, sono residenti tra le province di Caserta e Napoli e rispondono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a falso in atto pubblico. Il giro d'affare stimato sarebbe di oltre 1,5 milioni di euro. Era in un appartamento di Napoli il Salvatore Mundi dipinto di scuola leonardesca di ingente valore risalente al XV secolo e facente parte di una collezione custodita presso il Museo Doma della Basilica di San Domenico Maggiore del Capoluogo Partenopeo tornato oggi nella cappella Muscettola dalla quale era stato trafugato. A trovarlo sono stati gli agenti della sezione Reati contro il patrimonio della squadra mobile durante un'indagine che li ha portati in via strada provinciale delle Brecce. Il proprietario dell'appartamento dove il quadro è stato trovato, un 36enne, è stato sottoposto affermo con l'accusa di ricettazione. Nuovo bollettino pandemico diramato all'Asda di Caserta nella giornata di lunedì 18 gennaio. Sono 115 nuovi positivi al tampone molecolare a cui si aggiungono 244 persone guarite e 9 deceduti. Tamponi processati sono stati 844 per un tasso di positività pari al 13,6%. La città che fa registrare il maggior numero di positivi è Maddaloni con 266, seguita da Mondragone con 205 e Marcianise con 183. Intanto prosegue incessante la campagna di vaccinazione a Caserta e gli ultimi dati sul punto sono stati forniti dall'Asl. Con riferimento al pomeriggio del 18 gennaio sono state 15.264 le dosi somministrate ma la regione Campania ha confermato che continueranno le operazioni nei prossimi giorni nonostante i rallentamenti dovuti alla decisione di Pfizer di diminuire il numero di dosi inviate. I carabinieri di Cervinara hanno denunciato due persone a seguito di una denuncia a sport da un soggetto che si è visto recapitare la documentazione di un finanziamento di 15.000 euro per acquistare un'autovettura. Una richiesta da lui mai avanzata. I militari hanno ricostruito i fatti ed identificato i responsabili che sono due truffatori, un casertano ed un beneventano che sono stati poi denunciati. Alla procura di Avellino la coppia infatti aveva stipulato un finanziamento a nome e dallo scuro del denunciante che però è riuscito a smascherarli. Grande vittoria del Napoli ieri al Diego Armando Maradona contro la Fiorentina nel match delle ore 12.30 che i partenopei hanno vinto 6-0 tutto facile per i gomini Gattuso che chiudono il primo tempo davanti 4-0 grazie alle reti di Insigne, Demme, Lozano e Zielischi. Nella ripresa lo stesso capitano ha trovato il 5-0 dal dischetto mentre Politano ha seglato il definitivo 6-0 con una giocata delle sue. Con questo successo il Napoli sale momentaneamente al terzo posto a pari con la Roma anche se con una partita da recuperare contro la Juventus a meno 6 da Inter e Milan impegnata questa sera a Cagliari. Oggi è sembrato tutto semplice ma così non è stato. Insigne ha fatto una grande giocata sul primo gol e ci ha dato la svolta. La Fiorentina ha perso poi cattiveria. Dobbiamo crescere mentalmente. Abbiamo buttato troppi punti dopo il primo errore commesso. Pranzo fuori. Ho visto la squadra stanca mentalmente. Servono queste cose. Vorrei più cattiveria. È un onore allenare il Napoli. Per me dobbiamo dare tutti di più. Con la Fiorentina abbiamo regalato una grande prestazione. E vorrei ripeterla. Mercoledì contro la Juventus. Mercato. Iorente per ora rimane. Perché gli attaccanti non stanno benissimo. Petagna è uscito acciaccato per un problema al polpaccio. Mertens ha ancora fastidio alla caviglia. E Osimè non si sa quando rientrerà. Per questo Fernando, almeno per il momento, rimane con noi. Queste le parole di Gattuso a fine gara. Chiudiamo sempre con il calcio. Ci spostiamo sulla Casertana che ha vinto in casa della Paganese per 3 a 1. E ha ottenuto il secondo successo di fila dopo quello interno. Contro il Catania in rete per i falchetti Castaldo, Cuppone e Icardi dopo il vantaggio iniziale di Diop. Andiamo ad ascoltare le parole del centrocampista Icardi, autore del terzo gol, e del tecnico Federico Guidi nel post-match di Pagani. I ragazzi sono stati bravi perché hanno interpretato una partita complicata su un terreno difficile. Devo dare atto a loro che sono riusciti a interpretarla nel migliore dei modi, non disdegnandone anche la volontà di provare a giocare, cercando di interpretare quegli spazi che avevamo lavorato e che avevo richiesto durante la settimana. E poi nel secondo tempo c'è sempre stato un grande spirito, grande consapevolezza che se riuscivamo a fare quello che avevamo preparato potevamo riprendere la partita. E quindi anche dal punto di vista caratteriale ho visto un grande passo in avanti e anche nel finale c'era la volontà di non supire gol. Quindi insomma gli devo fare complimenti perché stanno acquisendo una mentalità che a tutti noi piace. Sì, assolutamente sono d'accordo perché molte volte a loro gli avevo chiesto che durante le partite dobbiamo riuscire a interpretare le situazioni di gioco con il Fioretto, quando serve il Fioretto, ma anche con la sciabola. Da questo punto di vista io penso che la squadra rispetto all'inizio della stagione abbia fatto un passo gigantesco in avanti, ma non da oggi, è da molto tempo e questo significa che dagli errori che abbiamo commesso abbiamo imparato. E quindi penso che questa squadra abbia ancora grandi margini di miglioramento e soprattutto ora viene il bello, nel senso che dobbiamo essere bravi a non accontentarci ma a continuare, perseverare su questa strada perché abbiamo capito che è la strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Sì, abbiamo reagito benissimo e ci siamo meditati una vittoria che era molto importante e sapevamo quanto fosse importante e venivamo quindi da una bella partita contro il Catania e trovandoci ad affrontare la Baganese in una situazione delicata, un campo complicato, loro è una squadra che gioca un po' sporco e ci fa giocare sporco e siamo stati bravi a riportare la partita dalla nostra parte. Sì, serviva magari un po' più di peso, un po' più di quantità mista a qualità che Gigi ha e sappiamo che ha, anche l'episodio del gol ci ha dato quella spinta in più per credere che potevamo ribartarla anche perché poi mancava penso più di 30 minuti dalla fine della partita, quindi senz'altro è stato fondamentale. Sì, noi in tutto il periodo passato, ripartiamo dall'inizio, abbiamo sempre messo in campo il cuore in ogni partita, in ogni situazione con tanti indisponibili sia per il fortunio che anche per Covid. Oggi siamo stati più bravi del solito, forse abbiamo anche fatto un passo in più per quanto riguarda la maturità dal momento che abbiamo preso il gol fino a fine della partita e siamo stati bravi a sfruttare l'occasione. È un campo complicatissimo che non so quante squadre nella stessa nostra condizione potevano magari riuscire a ribaltarla e quindi noi siamo stati molto bravi. Faccio complimenti a tutti, al staff, ai giocatori, tutti quanti. Per questa edizione di PrimaTG è tutto, appuntamento questa sera con Zanzara d'Inchiostro e domani sempre sui nostri canali. Caloroso, arrivederci. Caloroso, arrivederci. Caloroso, arrivederci. Caloroso, arrivederci. Caloroso, arrivederci. Grazie.